Buonasera. Ciao a tutti. Per me mi conoscete, bene o male. Questi due ragazzi sono due assi, per adesso non vi dico cosa fanno, fanno due altre attività, ma si stanno divertendo con un blog di cucine, di ricette particolari. Lo sapete che cosa faccio solo lo spaghetto di taralli, la mia capacità. E' buonissimo. E' buonissimo. E' buonissimo. E' buonissimo. La pasta è patata che fa un annanzo al re. Se mi esce bene qualcuno, se no il re chiaramente ha il pancino per un resavore. Ma la pasta è patata. Se la forchetta rimane appizzata a rindo va bene, se no cade e dà il petto al sapore. E loro hanno questo blog della cucina che è chiaramente una cosa divertentissima, simpatico, originale. C'è un gioco, dovete indovinare le ricette, che cosa c'è, che cosa non c'è, che si è scordata, poi fa finta di fare il grande chef. Dico, beh, è una finta. E' tutta una finta ragazzi. E' tutta un recito. E' tutto un recito. E' vabbè, non è vero, si può guardare, non è recito. Abbiamo assaggiato pure. E' roba nostra, ovviamente, roba dei due sicili, di un decimo fa. Assolutamente. Solo due sicili. Guardate la briganti, la vedete. Briganti abbastanza, i ragazzi, briganti abbastanza. Comunque, la pagina si chiama OneCooking, grazie. E invece su Facebook The OneCooking. Dico bene. Sì, è grande. E attenzione a Facebook. E mi sono guadagnato un altro bicchiere di Sherry, che è una cosa eccezionale. E va bene, cliccate, cliccate. Livia, Roberta, sono le mie nipotiche. Diteci qualcosa, Livia, Roberta, diteci qualcosa. Il mio spaghetto delle zucchine dopo una ragazza. Delle zucchine? Come lo fanno a Donzano. Una scena buonissima. Buonissima. Come lo fanno a Casero. No, a Bagnoli, a Bagnoli. Vorrei una cosa, era come lo fanno a Parigi. Spaghetto alla mea. I famosissimi spaghetti pariggini alla nera. Un saluto a tutti. Da Mr. OneCooking. Ciao. Ciao. E mettete mi piace, che divertente, vi garantisco, divertite. Ciao. Seguiteci, seguiteci.